10, 5, 4, 3, 2, 1, via! 100 destri per arrosso, ritarda, destra 3, stringe per accenno sinistro e destra finta. 100, diventa 4 tieni, subito sinistra 4 media, 50, accenno destro e subito sinistra 3 corta, per destra 4 corta, 80 e ritarda tornante destro. 100, sinistra 4 media, per destra finta, per destra 3 corta. E attenzione tornante sinistro, brutto. In accenno destro, subito sinistra 4 media e apre, 100. Destra 5 corta e subito ritarda tornante destro. 50, sinistra 5 corta, 150. Destra 4 corta, tieni, subito sinistra 4 corta. In accenno destro e subito tornante sinistro largo. 50, destra 5 sudosso, per sinistra 4 media. Per destra 5 lunga lunga 4, diventa tornante destro, largo. 80, sinistra 4 lunga lunga e apre, 50. Destra 4 corta, subito sinistra 4 chiude. Per destra 5 credici, 300. Il cazzo è distrutta. Destra finta, 150. E attenzione sinistra 3 secca. In destra 3 gira. Per, entra sinistra 4. Per destra 5 corta, 100. Aldosso sinistra 5, 80. E attenzione stacca destra 3 chiude. Subito sinistra 2, tieni. In destra finta. E sinistra 3 media. Subito destra 3 corta. Che c'è? Eh? 80 dosati. In versione destra. Destra finta, subito sinistra 4. Lunga lunga 4 e apre, 80. Destra 5 credici, 100. Destra 5 corta. E 50. La casa destra 4 sfiora. Subito sinistra 4. E molta attenzione. Sinistra, destra, sinistra 2. Sinistra 4 corta. Entra sinistra 3, 80. Sinistra 4 credici. Occhio, no? Occhio. Subito destra 4 lunga e apre, 100. 4, 29.